L'Avellino Rocchetta può essere il vero volano di crescita turistica dell'Alta Irpinia. Ci credono in molti, non soltanto il vicepresidente della giunta regionale della campagna, Fulvio Bonavitacola, che lo scorso venerdì ha incontrato i sindaci Altirpini a Lioni. Tra questi c'era il primo cittadino di Conza della Campania, Vito Cappiello, che si dice entusiasta dell'iniziativa. Io credo che questa sia una grande opportunità che dobbiamo cogliere e soprattutto cercare di non farci sfuggire. Prima perché, secondo me, dal punto di vista storico, questa è una tratta che va mantenuta come ha già dichiarato la sovrintendenza, anche se fosse solo per fini turistici, ma dobbiamo fare in modo che poi questa abbia un supporto anche nella logica della sostenibilità. Per cui il richiamo che il presidente Bonavitacola faceva ai comuni è quello di proporre progetti, sempre ampi sul territorio, ma soprattutto che siano a 360 gradi, per cui non solo legati a singoli eventi o a singole manifestazioni, ma che sia strutturalmente a servizio di un sistema turistico più efficiente e più globale. È importante che venga fatto un discorso un po' più allargato e complessivo, soprattutto per quanto riguarda anche la gestione stessa degli eventi. Per cui dobbiamo andare dall'evento Club, che sarebbe, non so, lo Sponsor Festival, già protagonista l'anno scorso, e che so, alla vendemmia, alla ricerca di siti turistici archeologici, tipo Conza, io mi sono candidato a questo, oppure il turismo che va per quanto riguarda l'ecosostenibilità, l'ambiente, e anche in questo mi sono proposto, perché abbiamo l'OSI WWF, potrebbe essere una delle offerte che, abbinata alla ferrovia, dà grandi risultati. Siamo al lavoro proprio in queste ore per far partire i lavori di messa in sicurezza delle strade della Baronia. Nel giro di una settimana saremo operativi. Sono queste le parole di Giovanni Romano, consigliere provinciale delegato alla viabilità, anche per i paesi della Baronia. Tanti buoni propositi nelle ultime settimane, ma le condizioni delle arterie in Baronia sono sempre più drammatiche, al limite della praticabilità. I sindaci erano pronti a scendere in piazza, anzi in autostrada, visto che la protesta era prevista per sabato 1 luglio nei pressi del casello autostradale di Vallata, ma l'incontro del 29 giugno a Palazzo Caracciolo bloccò tutto, poiché la provincia garantì il massimo impegno e l'inizio dei lavori entro dieci giorni. Oggi purtroppo ancora nessun intervento è stato effettuato, ma la situazione delle strade è al limite della percorribilità, ed il pericolo per gli utenti che le percorrono è sempre dietro l'angolo. Le parole di Romano chiaramente lasciano ben sperare, purtroppo però sono parole ripetute da anni, soprattutto per le arterie della Baronia e dell'Alta Erpinia. Dalla Baronia, dopo l'incontro in provincia, bocche cucite e nessuna dichiarazione, a differenza delle settimane precedenti. Ed allora la speranza è che le parole del consigliere provinciale romano questa volta siano rispettate, altrimenti la situazione potrebbe diventare ancora più pericolosa, ed in quel caso quello degli amministratori della Baronia non sarà certamente il silenzio degli innocenti. La vulnerabilità sismica e dei controlli sugli edifici scolastici sono al centro del dibattito amministrativo a Bisaccia. A scendere in campo questa volta il sindaco della cittadina al Tirpina, Marcello Arminio, che difende le scelte della sua amministrazione e spiega che l'attenzione sulla questione è alta, ma non c'è nessun problema e non deve crearsi alcun allarmismo. Noi già da qualche tempo e da qualche mese abbiamo dato un incarico a un ingegnere, l'ingegnere Giuseppe Mastrullo, che sta seguendo con molta professionalità tutte le fasi per arrivare ad avere così una precisa relazione sullo stato degli edifici scolastici di Bisaccia. Abbiamo iniziato con l'edificio che ospitava i ragazzi della scuola media e certamente i lavori dell'ingegnere sono iniziati già da qualche tempo, però in realtà proprio in questi giorni con la chiusura della scuola stessa si sono fatti dei carotaggi e delle analisi particolari che poi ci daranno, credo nelle prossime settimane, i risultati sui quali noi rifletteremo per capire come è la situazione dell'edificio stesso. Però voglio precisare che non ci sono allarmi particolari. Diciamo che questa è una fase che vede impegnato il tecnico per una routine normale, quindi nessun allarme. Certamente quando la relazione sarà pronta noi saremo in condizione di poter capire se ci sono cose da correggere, se in qualche modo c'è la necessità di pensare ad altro, ma lo vedremo nel momento in cui la relazione sarà pronta. Sgomento a Lioni per la morte di un 19enne del posto. Il ragazzo da qualche settimana aveva raggiunto parte della sua famiglia che da tempo era residente in Svizzera e nella giornata di ieri è stato ritrovato senza vita in una cella del carcere di Zurigo, dove si trovava molto probabilmente per infrazioni alla legge sulla circolazione ed assunzione di sostanze stupefacenti. La notizia è stata resa nota dal sito Ticino Online. A Lioni in pochi vogliono parlare della questione, perché la tristezza è tanta, come spiega il vice sindaco Domenica Gallo. È chiaro che una notizia del genere ha lasciato tutti sconvolti. Noi di fronte a un simile evento non possiamo che esprimere grandi solidarietà, una grande solidarietà nei confronti della famiglia e nei confronti dei parenti. Sono tragedie rispetto alle quali io credo che non ci siano delle parole giuste, se non un grande senso di coinvolgimento, un coinvolgimento morale che la collettività lionese ha. Sul caso la magistratura svizzera ha aperto un'inchiesta, infatti non ci sono indizi, come scrive la stessa polizia cantonale nel suo rapporto, che possa essere stato un caso di suicidio o di intervento di terzi. L'ipotesi più accreditata è quindi che possa essersi trattato di un caso di overdose. Ma allora c'è da stabilire come il giovane rinchiuso in una cella sia entrato in possesso della dose, che sarebbe stata fatale. A Lioni però ora vogliono la verità e nel più breve tempo possibile. Io da quello che ho potuto apprendere ho visto una dinamica non ancora chiara. Quindi cercheremo di capire come effettivamente sono andati i fatti e soprattutto cercheremo di capire come poter continuare un'attività di coordinamento con un territorio che è per noi molto vicino. Anche in Irpinia nasce il coordinamento operativo Ciclovia dell'Acqua, Caposeleleuca, un gruppo formato da varie associazioni, da esperti del territorio, da amministratori appassionati che vogliono far sentire la loro voce, visto che dalla Puglia negli ultimi mesi, rispetto ai fondi a disposizione, hanno già fatto la voce grossa. Ad intervenire ai microfoni di Telenostra sulla questione Salvatore Conforti, consigliere comunale autonomo di Caposele. Allora è un coordinamento che ha messo insieme una serie di elementi istituzionali anche dal basso, se vogliamo, che si stanno preoccupando che la ciclovia Caposele-Euca possa veramente essere una ciclovia omogenea, unica. Questo perché il percorso che noi abbiamo verificato fino a questo momento è un percorso nel quale ha fatto la parte del padrone la Puglia, per cui dovremmo adesso riallacciare e prendere le redini in mano per quanto riguarda i tratti che riguardano l'Irpinie e anche la Basilicata. Ci stiamo preoccupando di questo e attraverso i GAL, attraverso alcune istituzioni del territorio, il demanio, e professionisti che stanno sperimentando, monitorando un nuovo percorso e un percorso che sia fattibile da questo punto di vista. A questo proposito ci sarà a fine luglio un focus dedicato alla ciclovia dell'acqua, così chiamata, nel quale avremo il modo di confrontarci anche con gli amici della ciclovia dal basso pugliese, ma anche le istituzioni e quelli che si stanno interessando col cuore rispetto a un'opera finanziata dal Ministero, ma che oggi è ancora in un punto morto. Quella che inizierà lunedì a Cairano sarà un'intera settimana dedicata al tema dell'emigrazione, con tante attività e tanti ospiti che arriveranno da tutta Europa e non solo. L'emigrante per eccellenza, però, nel piccolo centro al Tirpino è lo showmaker Franco Dragone, che è intervenuto in esclusiva via Skype da Dubai per Telenostra e ha detto la sua anche sul momento delicato che sta vivendo l'Italia sul tema migranti. L'immigrazione è una cosa dell'umanità, che oggi sono i migranti che vengono dalla Siria, dall'Ibia, di tutti questi paesi che l'Italia conosce bene perché l'Italia è uno dei paesi in Europa che accoglie i più migranti. È una cosa che se noi non consideriamo come importante, questo potremo fare i muri i più grandi, ma questo fenomeno crescerà. E siamo tutti implicati in questo. Io sono fiero, direi, di come l'Italia accoglie. Non dico che accoglie sempre bene, ma l'Italia si ritrova con questo problema e non ha aiuto degli altri paesi europei. Comunque, se hanno un aiuto, non abbastanza. E ho degli amici, ho per esempio un amico che è ammiraglio, che lui è sulla barca che va lì in mare e che va a raccogliere questi migranti. È una strage terribile, che questa non dobbiamo mai dimenticare, che noi siamo stati i migranti. E dunque è un fatto che crescerà ancora di più e, come lo dicevo, possiamo fare come il Presidente Trump, mettere dei muri tra paesi, ma l'immigrante scavalcherà questi muri. E dunque dobbiamo assolutamente aprire i bracci, gli occhi, per poter essere umani e accogliere questi migranti in buone. Grazie per la visione!